Gentili telespettatori, buona giornata. È stato fatto un sondaggio particolare, una rilevazione di PN. È stato fatto un sondaggio con i partiti del 1983. È stato chiesto agli italiani cosa voterebbero adesso se ci fossero i partiti del 1983. E qui la grande sorpresa, perché con i partiti della Prima Repubblica, con questo sondaggio di BD Media, vincerebbe il Movimento Sociale Italiano di Almirante con il 19,6% delle preferenze. E ci sarebbe come secondo partito il PC, il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, con il 18,9%. Mentre la Democrazia Cristiana sarebbe il terzo partito, con il 17,4%. Se vogliamo dare una connotazione attuale al Movimento Sociale Italiano, possiamo definirlo come un partito sovranista che si contrapponeva all'internazionalismo socialcomunista e anche all'eccessivo asservimento all'atlantismo. Insomma, valori contenuti che attualizzati si riscontrano nei due movimenti sovranisti di oggi della destra, Lega e Fratelli d'Italia, i quali abbondantemente viaggiano oltre il 40%. Certo, il Movimento Sociale era assolutamente di derivazione neofascista, adesso il Movimento Sociale Italiano è dentro il Fratelli d'Italia, cioè il simbolo è stato assorbito in Fratelli d'Italia come il Partito Comunista è stato assorbito dentro il PD. Il Partito Comunista di allora era il centrosinistra di adesso. Questo sondaggio particolare dà questo strano spaccato di un'Italia di oggi che sarebbe comunque come primo partito il neofascismo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e non comporta null'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile. Se vi interessa siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video che trovate su YouTube e che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.